Come c'è una nascita fisica tramite cui entriamo a far parte di una famiglia o della società in genere, così c'è bisogno di una nascita spirituale, una nuova nascita attraverso cui entrare a far parte della famiglia dei credenti. Il Signore si è fatto trovare, mi ha veramente preso per mano, mi ha tirato fuori dal fango in cui ero, mi ha salvata e ha perdonato tutti i miei peccati. Da questo momento in poi è successa una rinascita nella mia vita. Una nuova nascita che solo Dio può compiere dall'alto della sua potenza e della sua gloria. Ecco, questa è la porta, l'unica porta per entrare nel regno di Dio. Non ve ne sono altre e questo miracolo Dio lo vuole compiere anche in te. Dio lo vuole compiere anche in te. Dio lo vuole compiere anche in te. Dio lo vuole compiere anche in te.